. Uomini e donne, Niccolò Brigante e Virginia Stadlum hanno ufficializzato la decisione con un post pubblicato su Stories. Il primo soffio di vento contrario ha spazzato la fragile relazione tra Niccolò Brigante e Virginia Stadlum. . Neanche due mesi fa il siciliano guardava negli occhi la giovane modella e gli dedicava dolci parole in uno scenario da favola per una scelta che aveva diviso l'opinione pubblica. Una decisione arrivata dopo un lungo percorso caratterizzato da segnalazioni, lì di furibonde e improvvisi ribaltono. . Alla fine l'ex tronista si è congedato dalla vulcanica Marta Pasqualato ed ha lasciato gli studi di Uomini e Donne con la Stadlum. . Nei giorni successivi alla scelta i due giovani si sono visti con il contagocce. La distanza ha reso più complicato un rapporto che non è mai decollato del tutto. . Dopo giorni di indiscrezioni e frasi in libertà Niccolò e Virginia hanno deciso di fare chiarezza sulla loro relazione attraverso due stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram. . Brigante ha annunciato che il rapporto con la ventenne trentina è arrivato ad una battuta dal resto. . Niccolò, tra noi stima ed affetto ma non amore folle.Il siciliano ha precisato che la decisione non è stata determinata da incomprensioni o tradimenti, non è scattato nulla una volta fuori da Uomini e Donne. . . Il ventitrenne ha aggiunto che la decisione è stata presa di comune accordo dopo aver tentato di frequentarsi il più possibile. . La speranza era quella di far volare questo rapporto. Invece è arrivato un brusco risveglio con la decisione di effettuare un atterraggio di emergenza. . Tra noi c'è stima ed affetto reciproco ma non quell'amore folle fondamentale per ogni relazione, ha puntualizzato Niccolò. . Quest'ultimo ha riferito che era doveroso fondividere questa decisione con i tanti fan che hanno sostenuto la coppia in questi mesi, chi vuol pensare male lo faccia pure. . Successivamente la Stablum ha precisato la sua posizione ribadendo, per grosse linee, concetti già espressi dell'ex tronista. . Virginia, spenti i riflettori c'era bisogno d'altro.Virginia ha sottolineato che una storia d'amore ha bisogno di cura e amore e che le distanze anche fisiche hanno complicato tutto. . . L'ex corteggiatrice ha affermato di aver vissuto dei momenti di magia con Niccolò durante l'esperienza nel people show di Canale 5. . 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